Ma dunque, io sono un ex, dal tutto al niente, precipito in un trappo, e la mente ci ho fatto con una bella stibuta. Scusi la mia premura, ma quelle due ragazze, da con la febbre e approfitto, si potrebbe sollecitare la scelta. Levanta, amico, e a fare pietà, dite, parlate, che parla, e in tenere molti, in queste stanze, a vedere tanto, tutti poi lo parlano, per ora è un gran segreto. E quale, e quale, che lo riduccio, questa non giudica ben prestato di caduta fa, o silenzio, la figlia di capretto, non ci ho neancuno, un'aria non si vede una mostra, è un cesto arcano che farà sbalordir, sto sulle spine, poniamoci a sedere, presto per carità, e voi rendirete un cazzo salvisauro, e voleste maritarsi con me. Mi raccomando, ma si lasci per dir, stia sigilata, ora udrete dalla bocca mia, io tengo in corso una segreteria. Un segreto, importante, un arcano, interessante, e io vedevo, io vedevo paletare, e io vedevo paletare, mi raccomando da bagasse, mi parava negonare, Un segreto, di un lavorato, di un lontano, di una macchina, di un avevano stupite, ma vopa la tatecolata, le tatecolata, bimassate, la tatecolata. Senza battere, senza battere le ciglia, senza trarre, senza trarne mini fiato, io mi pongo, io mi pongo ad ascoltar. Siamo qui dietrificato, ogni sillaba a contrar, senza manco trarne mini fiato, sarò qui dietrificato ogni sillaba, ogni sillaba a contrar, ogni sillaba, ogni sillaba, ogni sillaba a contrar, un uomo saggio è stato l'omano, sempre meglio di consiglia, se potassi una sua viglia, come mai non avrà a contrarre. Consiglier son già stampato, ma che certo di clemenza, vissi adunque sua eccellenza, anche a testa ad ascoltar, ad ascoltar, ad ascoltar. Abbiamo sempre pronti in sala, 30 servi in piena gala, 116 cavalli, 116 cavalli, tutti con dir marescialli, a dottine convidati, pranzi sempre coi chelati, poi carrozze, sei la che? Mi rispondo senza armani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani, io non so farne franti, di spazio sempre degli amanti, non ma so farne franti, signori, fratto sempre servitori, per emano sempre a pie. Mi corbetta, mi prometta, mi prometta, questo è dunque, mi romanzetta, questo è dunque, mi prometta, è un astuccio specificato, sotto un fuoco mascherato, ma dentro il vero principe, ma trappato al fila maschera, io ritorno al mio mestiere, io ritorno al mio mestiere, son Dandini il cameriere, di barletti, vassarabiti, parla barba e pettinar, parla barba e pettinar, di questo ingiuria, di questo appronto, di questo ingiuria, di questo appronto, il vero principe, e ti darà conto, ti darà conto, ora ti comodi, non sarà niente, ora ti comodi, non sarà niente, ma vado subito, di mantenere, di mantenere, non partirò, nessun dirà, con un parole, prossimo attore, si rivedremo, si rivedremo, si parleremo, si rivedremo, si rivedremo, si rivedremo, si parleremo, si parleremo, si parleremo, si parleremo, si parleremo, pronto il bastone, lei partirà, pronto il bastone, lei partirà, lei partirà, lei partirà, lei partirà, lei partirà, lei partirà, non partirò, non partirò, non partirò, non partirò, Eccolo, eccolo, tutti diranno, mi mummerà della vita! Grazie a tutti.